Questo non è proprio uno spot, ma un messaggio di esperanza. Mazda, a Hiroshima nel 1945 ha vissuto un momento molto doloroso, ma non si è arresa. Ha reagito con tenacia, superando quel disastro. Ne uscita diversa, migliore. Questa storia può essere di ispirazione oggi. Noi di Mazza Italia, i nostri concessionari, sappiamo che uniti e con determinazione l'Italia ce la farà. Supereremo questa sfida e presto torneremo insieme a correre, abbracciarci, baciarci, giocare, ballare, darci la mano, viaggiare, guidare. Grazie. 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 Grazie.